Siamo facendo il possibile, ma occorrono i fondi, questa è la replica del vice sindaco assessore all'ambiente del comune di Napoli-Sudano, alle parole del ministro Orlando che aveva dichiarato di essere in attesa di un piano da Napoli per presentarlo a Bruxelles ed evitare la maxi-multa. Hai reso un servizio alla città e polemica sul sostegno via web al ragazzo che ha ucciso due presunti rapinatori, travolgendoli con la Smart mentre erano a volto di uno scudo. Al via la seconda edizione del Festival del Giornalismo Giovane, in programma a Napoli dal 20 al 22 settembre, la Kermess dedicata ai giornalisti Under 35. Con l'entusiasmo dei nostri tifosi andremo lontano, lo dice il gioiello azzurro Iguain, che aggiunge, sono certo che con Atalanta e Borussia avremo un San Paolo strafondo. Buongiorno dalla redazione di Otto News e bentrovati all'appuntamento di metà giornata con la nostra informazione. Subito in apertura una notizia di ultimora, arrivata pochissimi minuti fa in redazione, è morto all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Salvatore di Bonito, 54 anni, l'operaio è rimasto gravemente ferito. Nell'incidente è avvenuto lo scorso 28 di luglio sul viadotto Acqualonga dell'autostrada A16. Salgono così a 40 le vittime della tragedia di Monteforte-Irpino, quando un autobus cadde giù da un dirupo provocando appunto 40 morti. Nell'incidente Salvatore di Bonito aveva anche già perso la moglie, Anna Mirelli, di 48 anni. La coppia viveva in località Monte Ruscello, a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Adesso andiamo avanti con il nostro telegiornale. Stiamo facendo il possibile, ma occorrono i fondi. E questa è la replica della vice sindaca, assessore all'ambiente del comune di Napoli, Tommaso Sodano, alle dichiarazioni del ministro invece all'ambiente Orlando, che nei giorni scorsi aveva dichiarato, sto aspettando da Napoli, un piano idoneo da presentare a Bruxelles e cercare di scongiurare la maximulta che grava sulla campagna. Il nostro piano è già stato illustrato al ministro Orlando e lunedì saremo a Roma per presentarlo formalmente. Poi avremo tempo sino alla scadenza del prossimo 15 di settembre per completare la messa a punto. Inizia così la replica del vice sindaco di Napoli, assessore all'ambiente, Tommaso Sodano, alle parole del ministro Andrea Orlando, ministro all'ambiente, che ha dichiarato di essere in attesa di un progetto dettagliato per l'impiantistica e la differenziata da portare a Bruxelles, nel tentativo di ridurre la super multa che grava sulla campagna. Attualmente siamo al 27% di differenziata e raggiungiamo 300.000 abitanti con il porta a porta. Con gli 8 milioni di euro arrivati dai fondi POR abbiamo già giudicato una gara per mezzi e cassonetti, oltre ai materiali. In questo modo allargheremo il servizio ad altri 100.000 abitanti, ribatte il vice sindaco. Il problema cruciale è e resta quello economico, ma complicare la situazione è anche la questione impiantistica. Sul tavolo del comune di Napoli c'è infatti il progetto di creazione di un sistema di compostaggio per 30.000 tonnellate di rifiuti, da realizzare nella zona di Scampia. A Napoli Est invece dovrebbe essere realizzato un impianto di separazione a freddo dei rifiuti. In quella zona era prevista la costruzione di un termovalorizzatore, progetto fortemente respinto dall'amministrazione di Luigi De Magistris. Sull'inceneritore di Giuliano, poi il vice sindaco, avanza alcune perplessità. Al momento infatti non c'è nessun provvedimento che verta sulle ecoballe. Quelle prodotte sino al 2005, ricorda Sodano, sono di proprietà di Fibbe, società del gruppo in pregino. In Regione si lavora su questo punto per indire una gara di appalto finalizzata alla realizzazione di un impianto che bruci le piramidi di immondizia di Napoli Nord. Ma contro la creazione dell'impianto si scaglia il Partito Democratico. I parlamentari dell'area Nord infatti sottolineano che Giuliano è un territorio già martoriato sul piano ambientale dove sussistono tra l'altro oltre 40 discariche e tonnellate di rifiuti depositati abusivamente. Rinviato il Consiglio Comunale di Napoli sulla questione bilancio soprattutto sull'aumento delle tasse, tra questa proprio la Tares. Se ne riparlerà infatti tra dieci giorni. Come annunciato, maggioranza e opposizione non hanno trovato convergenza su questo punto dolentissimo. Si cercherà dunque in questo lasso di tempo di vedere e verificare almeno una rimodulazione delle gabelle, soprattutto per quanto riguarda la temutissima Tares. La sensazione dunque è che l'ascolto messo in campo in maniera bipartisan sia soprattutto di opportunità politica, ovvero per spiegare a chi dovrà pagare il motivo per cui si è arrivati a bollette così care. La tassazione locale nella sostanza dipende al 100% dalle leggi dello Stato e in particolare per quanto riguarda i comuni che hanno aderito alla legge sul predistesto, dunque anche Napoli, gli spazi di manovra sono strettissimi. La stangata comunque ci sarà e sarà soprattutto sulla Tares l'imposta che sostituisce la Tarsu e che sarà salatissima con punte massime del 57%. Un dibattito serrato, quello del Comune di Napoli, dove sono scesi in campo anche i sindacati CGL, Cislo, Will e UGL che hanno incontrato l'assessore alle finanze Salvatore Palma e il vice sindaco Tommaso Sodano. I sindacati hanno chiesto che la manovra sia più partecipata e lo scontro si fa durissimo. L'abbandono assurdo di enormi quantità di rifiuti urbani e speciali sversati nelle piazzole di emergenza delle superstrade tra Napoli e Caserta, in particolare sull'asse tra le uscite di Aversa Nord e Aversa Sud. E quanto viene denunciato dal WWF, spesso questi rifiuti, sostiene Alessandro Gatto, referente per la campania dell'associazione, vengono date alle fiamme provocando un grave inquinamento dell'atmosfera. La quantità di rifiuti è talmente esagerata che le automobili trovano grandi difficoltà a fermarsi per eventuali emergenze perché le piazzole sono praticamente invase dai rifiuti anche ingombranti. E continuiamo a parlare di rifiuti, una terra violata e deturpata che da Campania a Felix è stata orribilmente trasformata in terra dei fuochi. Impossibile non associare la celebrazione dell'ottava giornata per la custodia del creato alla cruenta attualità che colpisce il nostro territorio. E' quanto ha dichiarato Monsignor Angelo Spinillo nella lettera pastorale rivolta ai fratelli. Giuseppe Porzio. Contare le vittime, curare i malati, avvisare le forze dell'ordine che da qualche parte sta bruciando qualcosa. E' diventata questa la triste routine degli abitanti della terra dei fuochi che ormai da anni attendono una bonifica del loro territorio, quello che va da Napoli Nord alla provincia di Caserta Sud. Le associazioni chiedono aiuto al presidente della Repubblica, Napolitano, in un'accorata lettera, mentre le diocesi di quella zona deturpata e violentata dalla camorra organizzano la marcia per la vita nell'ambito della giornata per la custodia del creato. Come spiega Monsignor Spinillo, vescovo di Aversa. Questa nostra gente vive e soffre questa condizione di sentirsi oggi come condannata, lo vive come una condanna, una condanna contro la quale nessuno ha alzato una parola per fare un po' la parte del difensore, per fare un po' la parte di chi si opponesse a certe ingiustizie e che però oggi pesa gravemente sulla vita di tutti. Questa marcia è un momento di sensibilizzazione, è un momento di educazione, perché sensibilizzare significa educare, significa rendere sensibili a delle presenze e noi vorremmo che tutta la nostra gente diventasse sensibile alla presenza della vita, al dono della vita. Un 17enne della provincia di Caserta che aveva annunciato di suicidarsi nel corso di una chat con gli operatori di telefono azzurro evidenziando un disagio emotivo e psicologico è stato salvato dal personale del compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni Sicilia Orientale di Catania. La polizia, dopo la segnalazione proprio dell'associazione, ha attivato la procedura di emergenza per ottenere i dati informatici utili ad individuare l'utente che è stato localizzato in breve tempo in un comune della provincia di Caserta. La polizia postale di Catania ha così immediatamente avvisato i carabinieri presenti nelle vicinanze ed è stata raggiunta l'abitazione del minorenne. Del fatto sono stati messi a conoscenza proprio i genitori del ragazzo. Giustizia è fatta. A Napoli adesso ci sono due malviventi in meno. Così il popolo del web commenta le immagini dell'investimento della morte dei due presunti rapinatori di Posillipo travolti proprio dalla loro vittima che era a bordo di una smart il fratello di una delle vittime e la sua unica colpa è stata avere amicizie sbagliate. In tribunale saranno i periti a dare la loro interpretazione di queste immagini. Il popolo del web non pare mostrare dubbi che questa sia la sequenza di un omicidio. Nemmostra tentennamenti a schierarsi dalla parte di chi, a detta della gran parte degli internauti, avrebbe fatto bene a farsi giustizia da sé. Dalla sua il diretto interessato continua a professare innocenza. Lui che era la guida di questa smart che ha travolto provocandone la morte i due presunti complici della rapina che lo stesso automobilista avrebbe subito pochi minuti prima mentre era partato in quell'auto in compagnia della fidanzata. Per gli inquirenti vale la tesi dell'omicidio. Leonardo Mitri, 29enne, autista di ambulanze, avrebbe incrociato il gruppetto di balordi artefice della rapina, li avrebbe inseguiti e, di proposito, investiti. Il giovane si trova dal 26 agosto agli arresti domiciliari disposti dal GIP sulla base di una ricostruzione che smentirebbe la versione fornita da Mitri, secondo il quale, nel tentativo di sfuggire a un nuovo tentativo di rapina, avrebbe involontariamente ortato lo scooter sul quale viaggiavano Emanuele Scarallo e Alessandro Riccio, entrambi con precedenti penali. Qualunque sia il teorema, manca qualcosa. Scarallo e Riccio, nella ricostruzione della rapina, sarebbero complici dei veri autori del colpo. Avrebbero fatto da palo, dunque, a mancare, sono gli autori. Due giovani, quanto lo erano le vittime, due malviventi, descritti come specialisti in colpi di questo tipo. Elementi, per risalire a loro, ce ne sono. Come gli amici morti, quella tragica notte, anche loro sarebbero del cavone. Nella prima sequenza di questo video ci sono anche loro su un altro scooter che percorre via Manzoni al fianco delle vittime. La loro versione potrebbe fornire elementi utili per chiarire meglio cosa accadde quella notte. Nel frattempo, mentre Leonardo Mitri, attraverso i suoi legali, continua a giurare che non era sua intenzione uccidere nessuno, ma che si è trattato solo di un incidente, non sono mancati commenti di carattere giustizialista, in calcio al video sulle pagine web del mattino. L'avere eliminato due individui irrecuperabili e pericolosi per la società dovrebbe essere un attenuante, si legge in un post. Questo signore ha reso un servizio sociale alla cittadinanza, si legge ancora oltre. Sono i pericoli del mestiere, aggiunge un altro, mestiere di rapinatori ovviamente. In calcio a una ventina di commenti, ecco comparire un post a firma di Emilio Scarallo, fratello di Emanuele, uno dei rapinatori morti. La sua unica colpa, scrive, è stata frequentare amici sbagliati, per poi passare all'attacco. Non permetterò, sottolinea, che un branco di ignoranti infanghino il suo nome. Scarallo se la prende con la cattiva informazione e chiede di aspettare che siano finite le indagini. Secondo lui le forze dell'ordine sanno come sono andate le cose e spero chiude che presto le rendano pubbliche. Si finge medico, prende in fitto una camera che concede poi in subaffitto ad altre tre persone, intascando illecitamente la somma di 480 euro. Ma è stato scoperto e arrestato dai carabinieri di Napoli. Ora Umberto D'Urso, 40 anni, è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. E ci spostiamo adesso sull'isola verde, sull'isola Dischia. Il cartello shock viene affisso e poi rimosso davanti ad un asilo di suore. I bambini si impressionano per i disabili e si scatena così l'indignazione collettiva sul web, mentre il sindaco della città di Casamicciola difende le religiose e dice sono in buona fede. Tutto nasce dalla giornata dei disabili, con una manifestazione ospitata proprio nella scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo delle Suore. Qualcuno dalla direzione decide di affiggere un avviso che vuole forse essere un consiglio, ma scatena lo scandalo, mettendo in guardia dalla presenza nell'Istituto di persone affette da disabilità gravi. La scuola, c'è scritto, è chiusa per tutti perché c'è la giornata per i disabili. Sono molto malati, quindi i bambini si impressionano. Il cartello finisce su internet, fioccano i commenti tutti indignati. L'avviso viene rimosso, ma la bufera ancora non si placa. Un operaio di 45 anni è finito, in prognosi riservata nell'ospedale di Aversa dopo essere caduto dalla piattaforma di un ascensore in fase di realizzazione che si trovava ad un'altezza di 15 metri. L'incidente è avvenuto a Via Diaz, a Teverola. L'operaio è ancora ricoverato tuttora in gravi condizioni. E ci occupiamo adesso dei trasporti. Buone notizie, almeno stando a quanto è dichiarato il presidente della regione Campania, Stefano Caldoro, che ha detto che per quanto riguarda la linea 1 della metro siamo praticamente in dirittura d'arrivo. Il traguardo è a 10 metri. Lo assicura il presidente della regione Campania, Stefano Caldoro, a proposito del completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli, che sarebbe dunque in dirittura d'arrivo. A breve, fa sapere il governatore, ci sarà la sigla dell'accordo di programma quadro tra il governo nazionale, l'ente di Palazzo Santa Lucia e il comune di Napoli. Una convenzione per un totale di 650 milioni di euro, a partire dai 300 stanziati dalla regione Campania con una delibera del dicembre del 2011, con la quale si è deciso di salvare il progetto della metropolitana. Nel 2010 avevamo trovato un'opera che rischiava di essere l'ennesima incompiuta, dice Caldoro. Invece abbiamo trovato le coperture economiche a dispetto delle troppe incertezze del passato. Ai 300 milioni di euro di fast della regione si aggiungono i 113 milioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come annunciato da Maurizio Lupi prima dell'estate. I restanti 42 saranno elogati successivamente e il mutuo che deve accendere il comune di Napoli sarà per 180 milioni di euro. Siglato l'accordo ci sarà poi la riunione del Cipe dove sarà possibile rendere esecutivo il progetto. E mentre si sta già lavorando per arrivare alla stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi, sarà possibile chiudere la tratta dal centro direzionale sino all'aeroporto di Capodichino. Contemporaneamente sarà sbloccata anche la parte dei lavori da Piscinola, attuale capolinea della metro, fino a Di Vittorio. È fondamentale chiudere l'anello, ha proseguito il Governatore, perché è fondamentale non pensare solo a quattro quartieri di Napoli, ma tutta l'area nord. Intanto Metro Napoli informa che la riapertura della linea 6 prevista per il prossimo 9 di settembre è stata rinviata. L'impianto interessato da lavori di manutenzione straordinaria nel periodo estivo resterà infatti chiuso al pubblico sino a nuova comunicazione per consentire l'esecuzione di ulteriori interventi di manutenzione. L'assessore regionale trasporti Sergio Vetrella esprime soddisfazione per la definizione dello schema finale dell'accordo di programma quadro, definito tra il Comune di Napoli, tra Regione e Campania, la cui sottoscrizione con il Governo è prevista per il prossimo 9 di settembre e che recepisce interamente l'impostazione tecnica e trasportistica fortemente sostenuta proprio dall'ente di Palazzo Santa Lucia per il completamento dell'intero anello della metropolitana di Napoli, ovvero quello piscino, la Dante, stazione Garibaldi, centro direzionale, aeroporto di Capodichino, stazione di Vittorio. Muore investito da un'auto mentre in sella la sua bicicletta percorre la statale 18 nei pressi di Taverna Nova del territorio di Eboli in provincia di Salerno, a perdere la vita un giovane di 25 anni di origini russe ma adottato da una famiglia del Comune salernitano di Capaccio. A quanto si è appreso, il ciclista la scorsa notte è stato sbalzato dalla bici ed ha battuto violentemente la testa sul selciato, a nulla sono varsi i soccorsi. Il giovane è morto mentre stava per essere trasferito all'ospedale di Eboli a bordo di un'ambulanza del 118. L'investitore, un uomo di 40 anni di Capaccio, ha arrestato subito la sua Ford Fiesta ed ha subito prestato i primi soccorsi al giovane. Come sull'episodio, indagano i carabinieri della stazione di Santa Cecilia di Eboli. Pronti via tra mille incognite, parliamo della Forum delle Culture a pochi giorni proprio dalla sua inaugurazione ma è ancora mistero sul programma e soprattutto sulle risorse. L'assessore regionale alla cultura Caterina Miraglia dichiara è un evento di cui sono ignoti gli stessi eventi mentre il suo omologo al Comune di Napoli, ovvero l'assessore Nino Daniele, dice parlano così perché non sanno di cosa sono capace. Mistero, forum delle culture, il tempo si riduce sempre più il via se non verrà rinviato è tra pochi giorni e le certezze diventano sempre meno. L'ennesima giornata di passione comincia con l'intervento di Caterina Miraglia assessore alla cultura della regione Campania che insieme al Comune di Napoli ha la responsabilità dell'intera Kermess e della gestione del brand Forum, ereditato da Barcellona. Miraglia sembra scaricare le responsabilità dei ritardi organizzativi interamente su Palazzo San Giacomo. Non c'è dialogo nel senso che sono due compartimenti diversi quindi nell'insieme il dialogo può provenire solamente dalla definizione dei programmi completi da parte di un ente e dell'altro ente. In assenza di una programmazione definita di un ente è difficile parlare di dialogo. Noi tra poco glieli porteremo i programmi del Comune quindi sappiamo che è una prova difficile che combattiamo veramente contro condizioni proibitive. La regione aspetta i programmi e noi glieli porteremo risponde dal Comune l'assessore alla cultura Nino Daniele uno degli ultimi ingressi della squadra De Magistris che eredita un disastro quasi annunciato. Nonostante allo stato attuale non ci sia niente di definito forse niente di niente basta nonostante la rinuncia di Neumann a coprire la carica di direttore artistico l'assessore si mostra fiducioso. Sebbene l'impresa di partire in tempo sembra proibitiva Daniele risponde con una battuta in cui si legge tutta la sua determinazione. Insomma, uno scommettitore non scommetterebbe però non conoscono l'assessore Daniele. Nel frattempo dalle parti di Piazza Municipio saltava la seduta della Commissione Cultura sul forum seduta che tra l'altro doveva vedere la partecipazione degli assessori coinvolti al tavolo interassessorile che invece erano impegnati in altre conferenze. Maria Lorenzi, presidente della Commissione però sembra non avere dubbi il forum non subirà slittamenti. In la cozione credo che si farà non c'è ancora il contratto a Morricone ma sicuramente si farà anche perché poi il forum partirà come voi ben sapete da maggio maggio 2014. Dovranno partire i bandi di gara poi ci sarà un comitato scientifico che sceglierà naturalmente tutto ciò che riguarda appunto le proposte che arriveranno e poi dopo si vedrà. Università Low Cost per venire incontro alle esigenze della crisi e alle esigenze soprattutto degli studenti e questo è il progetto presentato dall'Università degli Studi di Napoli Sororsola, ben in casa. In un momento di gravi difficoltà economiche per tutte le famiglie vista la crisi che non cessa il suo corso quando da più parti si sono invocati interventi urgenti da parte delle università per ridurre le tasse e dare la possibilità al maggior numero di studenti di iscriversi alle facoltà all'Università Sororsola, ben in casa hanno pensato ad un vero e proprio pacchetto di misure anticrisi. Ce ne spiega i dettagli il Rettore dell'Università degli Studi Sororsola, ben in casa di Napoli Lucio D'Alessandro. Abbiamo pensato quindi da un lato secondo una nostra antica vocazione di sempre a favorire gli studenti più bravi dando dei bonus agli studenti che si vengono ad immatricolare e che sono portatori di voti particolarmente elevati bonus anche significativi. Abbiamo mantenuto quella che è un nostro patto con gli studenti, sempre più difficile da mantenere ma sempre più importante quello per il quale le tasse vengono fissate all'atto dell'immatricolazione e rimangono tali per tutto il periodo degli studi previsti, il triennio, il quinquennio, quello che sia e poi abbiamo anche previsto noi abbiamo molti numeri chiusi perché siamo un'Università che cerca di guardare alla qualità del servizio che può rendere allo studente di proporzionare il servizio al numero degli studenti di fare in modo che la piccola tassa veramente modesta che gli studenti pagano per il servizio del test di accesso la paghino una sola volta è come se fosse una specie di orientamento possono fare tutti i test che vogliono pagano una sola tassa e quella tassa dove si iscrivano presso di noi viene loro rimborsata è un modo per testare la serietà dell'intenzione ma anche di aprire quanto più possibile le porte di un'istituzione che si caratterizza poi per la varietà estrema degli incontri scientifici, didattici ma anche professionali che sono presenti nel circuito, nel network dell'Ateneo non ha fatto registrare il cosiddetto e atteso pienone di partecipanti la prima edizione del Capri Rainbow la kermess dedicata al turismo gay che ha preso il via ieri sera sull'isola azzurra circa 50 persone hanno preso parte al cocktail di benvenuto della manifestazione in corso per tutto il weekend sull'isola di Capri complessivamente hanno reso noto gli organizzatori hanno aderito 150 persone prenotando il pacchetto turistico negli hotel dell'isola non c'è stato dunque l'assalto inizialmente previsto Capri storicamente e sempre accogliente nei confronti dei gay e anche questa manifestazione si sta svolgendo nel massimo della serenità con eventi culturali, percorsi gastronomici passeggiate, teatrali, escursioni intorno all'isola oggi pomeriggio nella sala convegni dell'hotel Capri Palace il giornalista Alessandro Cecchi Paone modererà un convegno sul turismo gay in Italia e sulle nuove opportunità di sviluppo Lavoro e diritti, start-up e nuovi media saranno questi i temi al centro della seconda edizione del Festival del giornalismo giovane in programma al Palazzo delle Arti di Napoli dal 20 al 22 settembre prossimi un appuntamento che si rivolge soprattutto ai giornalisti under 30 il festival che richiamerà a Napoli un migliaio di partecipanti è stato presentato a Palazzo San Giacomo e si parlerà anche di opportunità e di questioni femminili nel mondo dei media Sarà Napoli a ospitare la prossima edizione del Festival del giornalismo giovane in programma dal 20 al 22 settembre al Palazzo delle Arti di Napoli la Kermess porterà nel capoluogo campano giovani giornalisti o come va di moda a dire oggi giornalisti 2.0 per una tre giorni il cui tema fondamentale sarà l'occupazione i lavori si tradurranno infatti in suggerimenti ai giovanissimi operatori della comunicazione su come trovare impiego dall'estero alle cooperative sociali Simone D'Antonio presidente Yacht Press Italia questa seconda edizione sarà totalmente incentrata sul tema del lavoro cercheremo di dare delle indicazioni pratiche ai ragazzi che si accostano alla professione o che sono già all'interno del giornalismo e cercheranno anche di evolvere sia a Napoli che in Italia o anche in Europa i temi che tratteremo quest'anno saranno quelli dell'integrazione dei giornalisti giovani di seconda generazione ma anche il tema dell'innovazione quindi dei nuovi media come anche il tema dell'Europa e quello delle donne quindi l'accesso alla professione delle colleghe insomma questi sono dei temi che forse non sono ancora pienamente al centro del dibattito in Italia ma invece noi riteniamo che possano diventare dei temi fondamentali come lo sono anche nel resto d'Europa un'iniziativa dalla duplice valenza se si considera il grave periodo di crisi che attraversa l'intero settore editoriale che però continua ad affascinare i giovani problemi che sembravano interessare solo la filiera della carta infatti stanno negli ultimi mesi espandendosi anche alle televisioni con le emittenti locali e regionali che spesso sono costretti ad alzare bandiera bianca ma secondo il presidente dell'ordine dei giornalisti campani Ottavio Lucarelli ci sono spiragli per sperare ci stanno aprendo alcune possibilità soprattutto i colleghi giovani professionisti di prima o di seconda generazione come l'hanno chiamato che stanno riuscendo a lavorare sono soprattutto quelli che negli ultimi anni si sono messi assieme hanno creato piccoli consorzi cooperativi web tv utilizzando bene il web stanno riuscendo a lavorare ma tutto questo viene sempre in un contesto molto molto difficile Quarta edizione per il Pumbarock Music Fest il fortunato appuntamento live di fine estate organizzato dal forum dei giovani e dal comune di Sant'Antonio Abbate con l'associazione culturale Up Art l'evento si terrà nel comune appunto di Sant'Antonio Abbate il 13 e 14 settembre con inizio alle ore 18 e con ingresso interamente gratuito anche quest'anno il contest darà l'opportunità a sei artisti di esibirsi nelle due giornate della rassegna tra essi sarà poi selezionato un vincitore a cui verrà offerta la produzione e distribuzione di un singolo nonché la possibilità di esibirsi live in alcuni dei migliori festival della Campania la giornata di venerdì 13 di settembre avrà come protagonisti i Sud Sound System i Meganoidi e gli RFC la giornata invece di sabato 14 di settembre avrà una forte impronta territoriale e vedrà alternarsi sul palco dei migliori artisti i campani del momento i Foglia, Gialma Megretta e Clementino il rapper e ci occupiamo adesso di spettacolo domani al Maschio Angioino con lo spettacolo Caburlesque va in scena Maria Bolignano a chiudere la rassegna Ridere 2013 noi l'abbiamo intervistata Maria Bolignano ritorni a vestire i panni della diva dica Burlesque chiudendo la rassegna teatrale Ridere 2013 al Maschio Angioino come nasce questa idea di prendere un po' in giro il Burlesque che invece è una cosa abbastanza seria anche molto sensuale? in realtà nasce così istintivamente perché io ho sempre pensato e le mie colleghe lo sanno perché io a volte faccio proprio delle conferenze su questo fatto che non necessariamente la donna per far ridere ha bisogno di essere brutta, racchia, corta, chiatta, vecchia che è uno stereotipo un po' italiano e quindi un'occasione è stata quella di mischiare il cabaret che io adoro con il Burlesque che è questa arte che è stata un po' anche diciamo travisata perché in Italia quando parli del Burlesque pensi sempre a quel femminone che si spoglia quasi una lapdance in realtà non è così perché il Burlesque è proprio ironia e sensualità ma anche circo e anche trasformismo e quindi abbiamo cercato di mettere tutte queste cose all'interno di Caburlesque scritto SC proprio perché non ci prendiamo mai sul serio l'ironia appunto è proprio il filo conduttore della tua comicità tu prendi in giro soprattutto le donne e soprattutto dai anche questa idea di antiviva oggi sempre di più l'aspetto estetico portato ai massimi livelli diventa l'elemento principale in televisione tu fai tanto teatro fai anche televisione eppure riesci a portare l'immagine di una donna vera di una donna che riesce a far ridere anche senza portare avanti l'idea della diva ma per forza non è che tengo il fisico di un ruolo radivo quindi per forza deve essere così cioè sono costretta dalla natura a essere un'antidiva però a questo punto ho approfittato e facciamo vedere che anche alle altre donne che non sono delle figone che possono fare tutto quello che vogliono nella loro vita quindi anche far ridere però senza cioè prendendosi in giro ma sempre in maniera mai offensiva mai denigratoria sempre non dico intelligente perché pare che Richard Dutfi è così intelligente no però non stupide ecco diciamo così ci salviamo secondo te le donne si prendono troppo sul serio in questo periodo in questo momento storico ma tutti ci prendono un po' troppo sul serio io per niente vedi come vado in giro vado in giro con la crinolina nella mia macchina l'ho tolta perché ho detto va a fine qualcuno passa e sa roba perché non so se si può vedere lui non ha capito vedi una crinolina io metterò anche questo quindi immaginate cosa accadrà a 40 anni ha giversa capa è bene è così Maria allora diamo l'appuntamento con Caburlesque Caburlesque 8 settembre domenica maschio angioino ore 21 e per le prime 100 persone 100 coppie che verranno ci sarà anche un piccolo gadget targato Caburlesque che è una pallina antistress che di questi tempi fa benissimo saluto tutti i miei colleghi che sono straordinari non li elenco tutti perché si me ne scordino se c'era guerra quindi va bene così Caburlesque Caburlesque domenica 8 settembre ore 21 maschio angioino adesso la linea torna alla regia per una breve pausa pubblicitaria noi ci ritroviamo subito dopo con la nostra pagina sportiva rieccoci studio con la nostra pagina sportiva sono certo che sia con l'Atalanta che con il Borussia in Champions avremo un San Paolo stracolmo a dirlo è il gioiello azzurro Iguain che promuove il pubblico del San Paolo a dodicesimo uomo in campo dopo circa un mese il Pipita sottolinea il calore del pubblico e il ruolo che il San Paolo può avere nella corsa degli azzurri verso lo scudetto e soprattutto verso i turni primaverili anche della Champions League da quando sono a Napoli dice Iguain sento quotidianamente il calore dei napoletani e sono certo che nelle prossime due partite avremo un San Paolo stracolmo che ci sosterrà e ci spingerà con ancora maggiore forza del resto l'entusiasmo intorno all'attaccante argentino e va detto anche al nuovo Napoli di Benitez in città è già enorme per il Borussia Dortmund sono già infatti in vendita i biglietti con il diritto di prelazione per quasi 13.000 abbonati del Napoli e si prevede che praticamente tutti confermeranno il loro posto allo stadio e con questo si chiude questa edizione di Otto News la nostra informazione ritorna puntuale alle 19.30 grazie per averci seguito buona giornata